Ciao a tutti i miei amici italiani, amici Sardinia, amici Calabrese, amici Sicilia. Mi chiamo Apostolo Bobo. Sono qui per mostrarti la vera verità della Bibbia in una breve lezione. Oggi voglio mostrarti come dire il nome del Padre Celeste e il suo figlio uniginito, nella lingua antica ebraica. Il libro di Sofonia, capitolo tre, versetto nove, mi permetta di leggerlo. Il passaggio è tratto dalla Il Re Giacomo Bibbia, sedici, undici edizione. Rivolgerò al popolo un linguaggio puro affinché possano chiamare tutti il nome dell'Eterno. Il linguaggio puro è ebraica antica. Questo è come lo dici tu. Il nome del Padre Celeste è Yahawah. Dilo con me. Il suo figlio uniginito nome è Yahawashai. Dilo con me. Grazie per l'ascolto. A dopo.